Ciao ragazzi, ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram, detto questo diamoci dentro col video. Oggi voglio parlarvi di Richard Kuklinski, detto anche Iceman. Richard Kuklinski è stato un mafioso e un seriale statunitense. L'uomo colpisce molto per la mafia italo-americana, ma si contraddistingue per i suoi modi molto brutali. I media lo hanno ribattezzato Iceman, ossia uomo di ghiaccio, perché il primo corpo ricondotto a lui è rimasto congelato per ben due anni in un freezer. Si presume che Richard abbia collezionato dai 33 ai 150 crimini. La media della polizia è di circa 150. Come al solito facciamo un passo indietro per andare a delineare la figura di questo uomo. Chi è Richard Kuklinski? Richard nasce l'11 aprile del 1935. I suoi genitori si chiamano Stanley Kuklinski e Anna McNally, due immigrati polacchi davvero molto poveri. La famiglia vive in un piccolo appartamento, in un casermone nella periferia di Jersey City, in cui il gabinetto è in comune con gli altri coinquilini. Richard è il primo genito e ha un fratello e una sorella. Vivono in uno stato di povertà assoluta, dove le persone possiedono solo gli abiti che indossano. Per questo Richard viene sbeffeggiato dagli altri bambini. Lo prendono in giro perché lo vedono sempre indossare gli stessi abiti larghi e consumati. E Richard di conseguenza, ancora bambino, va a lamentarsi da sua madre, dicendole che si vergogna ad andare in giro con quei vestiti. Però Anna McNally, sua madre, è una donna fredda, consumata dalle numerose violenze subite da un prete durante la sua infanzia passata in orfanatrofio. Anna, infatti, non ascolta affatto suo figlio, quindi continua a comperargli vestiti di numerose taglie più grandi. Anna è convinta che quando Richard sarebbe cresciuto, avrebbe potuto nuovamente indossare quei vestiti, senza la necessità di rimpompargli l'armadio. I soprannomi che i vari bambini e compagni di scuola affibbiano a Richard sono principalmente Richie, il ragazzo straccio, e Richie il barbone. Suo padre, Stanley Kuklinski, ha un brutto vizio. Beve, beve tantissimo. È un alcolizzato, lavora per le ferrovie e ha l'abitudine di star lontano da casa per davvero molto molto tempo. Quando torna a casa è immancabilmente ubriaco e purtroppo inizia a prendersela con chiunque gli sia sotto tiro, compreso Richard. La madre, Anna, cerca di fermare suo marito dalla sua furia poche volte. La violenza non fa per lei, è solita umiliare i suoi figli con le parole e l'atteggiamento. Il suo disprezzo per la vita sembra proprio che dipenda dai suoi bambini. Lo scopo di Anna è quella di rendere l'infanzia dei suoi figli uguale a quella che ha avuto lei, ossia un vero e proprio inferno. Richard purtroppo assiste alla dipartita di suo fratello minore, Florian, mentre viene picchiato da suo padre che è totalmente ubriaco. Questo vuol dire che Richard vede suo fratello morire per mano di suo padre. L'accaduto ovviamente crea in Richard un forte stato interiore di rabbia verso il padre. Quando gli è possibile salta la scuola, preferisce vagare senza meta a Jersey City, non ha né amici né compagni con cui giocare, sta sempre da solo e in disparte. Esiste solamente lui contro un mondo che non riesce ad accettarlo. Richard cresce con dentro un odio e una rabbia che sente di dover sfogare in qualche modo. E come spesso accade con i seriali, inizia a far del male a degli animali randaggi. Richard però non si accontenta di ucciderli e basta. Le brucia, le tortura, gli dà fuoco e poi, incuriosito, li guarda morire. Richard durante i suoi vagabondaggi un giorno nota un camion aperto, in cui all'interno nota una bottiglia di vino. Quindi ruba la bottiglia, si nasconde in un posto isolato e se la scola tutta. Il problema è che Richard prima di quel giorno il vino non l'aveva neanche mai assaggiato per sbaglio. Quindi una volta tornato a casa, dopo essersi scolato in una bottiglia di vino, sta malissimo. È talmente spaventato che per una settimana non esce di casa, per paura di essere arrestato. Però, in fin dei conti, nessuno lo va mai a cercare. Quindi Richard si tranquillizza e inizia a pensare che, anzi, quel vino è proprio destinato a lui. Con l'avanzare del tempo, quindi, Richard accumula azioni criminali, ma riesce ogni volta, immancavilmente, a farla franca. Così Richard inizia a pensare di essere invincibile e di avere qualche capacità in più rispetto agli altri. Nel quartiere in cui abita Richard c'è anche un altro ragazzo, ossia Charlie Lane. Charlie è capo di una piccola banda di quartiere composta da sei ragazzi, che ce l'ha personalmente con Richard. Ogni volta che Richard e Charlie si incontrano, Charlie non perde occasione per umiliarlo, per prenderlo in giro, per chiamarlo sporco polacco. Se Richard osa ribellarsi, subisce calci e pugni dalla banda di Charlie. Quindi Richard non reagisce mai, ma dopo aver subito varie volte le ire di Charlie e la sua banda, inizia ad accumulare una rabbia che lo porta, poco a poco, a compiere il suo primo crimine violento. Richard ha 13 anni, è il 1948, quando inizia a litigare pesantemente con Charlie, cosa che, peraltro, accade spesso. Ma in questa occasione Charlie è da solo, non c'è con lui la sua banda ad aiutarlo. E Richard ha dentro di sé una rabbia inaudita. E infatti si dice che Richard abbia tolto inavvertitamente la vita a Charlie, in quanto usa contro di lui un bastone fino a togliergli la vita. Alla fine porta il suo corpo in una palude a South Jersey, dopo aver rubato e guidato una macchina per qualche ora. Ovviamente senza patente, dato la sua giovane età. Successivamente cerca uno per uno i membri della banda di Charlie, per poi picchiare anche loro con un bastone di ferro. Col passare del tempo Richard diventa lui stesso capo di una banda, specializzata nelle irruzioni dei supermercati, nei furti con scasso e nel saccheggio di empori. Passano gli anni e arriva il 1961, quando Richard conosce e successivamente sposa una ragazza del suo quartiere dalla quale ha due figlie, Merrick e Chris. In questo caso purtroppo Richard viene investito dai suoi ricordi e dalle sue idee di infanzia, i quali lo portano a farsi un'idea di come sarebbe diventato negli anni successivi, alcolizzato e senza neanche un soldo, esattamente come suo padre. Infatti il suo primo matrimonio fallisce ben presto. I due continuano a essere marito e moglie, ma Richard, quando lavora al porto, conosce quella che sarebbe diventata la sua seconda moglie, ossia Barbara Pedrici, una ragazza timida con un'infanzia che è stata l'opposto di quella che ha caratterizzato Richard. Tra i due è amore a prima vista. In seguito ad un corteggiamento serrato, Richard fa in modo che la madre di Barbara paghi il suo primo divorzio con la sua prima moglie, così da poter sposare la sua amata Barbara. Richard decide di prendere in affidamento le figlie avute dal precedente matrimonio e ben presto la sua famiglia si allarga ulteriormente perché arrivano altri due pargoli. Nella vita domestica Richard mostra due personalità che si alternano. A volte è un marito un padre perfetto, pieno di attenzioni. Altre volte però va su tutte le furie per nulla. Richard sta sempre a covare rabbia per poi esplodere improvvisamente e spesso questa sua rabbia lo porta a compiere un altro crimine da aggiungere alla sua già lunga e numerosa lista. Ci da dire una cosa, Richard non mette mai le mani addosso ai suoi figli, bensì si sfoga spaccando numerosi oggetti, mobili e ahimè si sfoga anche su sua moglie. Questo ovviamente fa spaventare i suoi figli. Quando gli attacchi di rabbia di Richard sono più forti durante la notte, mette un cuscine in faccia a sua moglie e finge di soffocarla, mentre in altre occasioni la minaccia con una pistola. Richard è fortemente ossessionato da Barbara, vuole sapere sempre dove si trova. Inoltre secondo lui deve stare a casa, proprio per non incontrare persone strane. Richard ha l'ossessione di compiere ogni cosa in modo maniacale, con particolare precisione e soprattutto vuole che la sua famiglia sia la famiglia americana perfetta. E infatti, se visti con occhi esterni, i Kuklinski danno davvero l'impressione di essere una famiglia perfetta, unita e armoniosa. Il lavoro ufficiale di Richard è commerciare titoli e prodotti stranieri, lavoro per il quale è spesso in viaggio, ma di nascosto invece fa truffe, commercializza videocassette intime e infine svolge il lavoro per cui diventa famoso, l'assassino su commissione per diverse famiglie mafiose. La svolta avviene quando Richard entra in contatto con un mafioso italo-americano della famiglia di Cavalcante del New Jersey. In particolare, Carmine Genovese inizia a collaborare con lui nei numerosi continui omicidi che accadono in quegli anni nel mondo della malavita organizzata. Il suo nome ben visto presto circola tra le famiglie che chiedono sempre più frequentemente i suoi servizi, tanto che quasi tutte queste famiglie avrebbero voluto farlo diventare un uomo d'onore a tutti gli effetti, rendendolo ufficialmente uno di loro. Ma ciò non può avvenire in quanto nel crimine organizzato di quegli anni vige una regola fondamentale. La persona da assumere deve avere rigorosamente origini italiane. La legge però viene resa dopo poco tempo un po' più permissiva, in quanto è sufficiente che uno solo dei due genitori sia italiano, meglio il padre. Questo secondo lavoro di Richard lo porta a viaggiare molto per compiere i suoi numerosi crimini. Gira quasi tutti gli Stati Uniti d'America per poi sfociare anche in Europa. Una tappa particolarmente famosa per Richard è stata quella di Zurigo, dove conclude numerosi affari, sia personali che dediti alla criminalità organizzata. Richard nella sua vita fa fuori le persone per diversi motivi. Lo fa per derubare la vittima, per divertimento, per lavoro, per coprire altri omicidi, per soddisfare la sua rabbia interiore o ancora per mantenersi in allenamento. Non dobbiamo scordarci che ci troviamo in una manata violenta, ossia quella degli anni 70-80 e Richard mica è scemo, è furbo, si muove nei bassi fondi, colpisce disadattati, omosessuali e vagabondi. Persone senza identità e sconosciute al mondo intero, pensando quindi che i suoi crimini non sarebbero mai stati scoperti o quantomeno non li avrebbero collegati a lui direttamente. Quando colpisce Richard si sente piacevolmente eccitato, si sente forte, felice, imprendibile. Ed è a questo punto che Richard si rende conto di aver raggiunto il suo desiderio più grande, avere il controllo sulle altre persone. L'uomo si serve di ogni oggetto per compiere i suoi crimini, dalle classiche armi da fuoco, che il più delle volte fa modificare personalmente, tra cui possiamo trovare pistole semiautomatiche calibro 22 con proiettili ad espansione, sapendo bene che quando uno di quei proiettili penetra in un cranio, tende a rimbalzare provocando danni davvero devastanti al cervello. Richard usa anche delle revolver a canna corta, fucili a canne mozze e altre armi bianche, come coltelli punteruoli o stiletti. Ma non solo, Richard usa anche corde, sbarre di ferro, mazze da baseball o ancora le sue mani. Nell'ultimo periodo della sua vita da libero sfrutta le potenzialità del veleno, metodo che però a quel tempo si rivela controproducente. Delle volte Richard approfitta della sua immensa stazza, visto che è alto quasi due metri e pesa da 135 kg e si trasforma in una vera e propria struttura di impiccagione, in cui dopo aver legato attorno al collo del povero malcapitato di turno una corda, si gira con la schiena e sfrutta la sua spalla come il fulcro di una carrucola, tirando la corda e sollevando la vittima da terra, portandola immancabilmente sulla via della morte. Richard Kuklinski ha guadagnato un famoso soprannome, ossia The Iceman, in italiano l'uomo di ghiaccio. Questo soprannome viene affiancato a Richard a seguito di un macabro ritrovamento da parte della polizia. Il corpo di Louise Musgay, un vecchio socio di Richard diventato troppo scomodo, che dopo essere stato freddato, viene inserito in un sacco e chiuso in un freezer per un paio d'anni. Richard così facendo riesce a far credere agli inquirenti che Louise sia venuto a mancare molto tempo dopo il suo reale decesso. Richard inoltre è affascinato dai vasti boschi di Bucks Country, in Pennsylvania, per la pace e la tranquillità che caratterizzano quei luoghi. Ma non solo. Richard infatti non si immerge nella natura con il mero scopo di rilassarsi, ma anche per nascondere i corpi delle sue vittime. E in effetti liberarsi dei corpi, spesso e volentieri, costituisce un problema. Richard il più delle volte può lasciare il corpo delle vittime nel luogo in cui le affreddate. A volte infatti si ritrovano corpi in vicoli, parcheggi o ancora garage. Altre vittime invece devono sparire su richiesta esplicita del committente. Quando Richard ricorre ai boschi sta sempre molto attento a non nascondere due corpi troppo vicini, in modo da non far suscitare sospetti nelle autorità, inducendole in questo modo a sorvegliare una zona davvero molto vasta. Il suo compito è sempre lo stesso, deve colpire, deve far fuori. E ad essere sinceri Richard riesce anche a farlo piuttosto bene, tanto che per lui fare l'assassino su commissione diventa un'arte raffinata. In questo tipo di ambiente l'uomo può davvero considerarsi un esperto. Arriva un pomeriggio d'inverno e Richard si trova come al solito nei boschi di Bucks Country ed è armato con un fucile Browning a doppia canna. Gli piace giocare al gatto e al topo, ossia avvicinarsi ad un animale per poi colpirlo, ancora prima che si accorga della sua presenza. Malgrado la sua stazza, Richard è molto bravo nel muoversi in silenzio e con grande maestria, cosa che gli permette di piombare inatteso su marmotte, scoiattoli, moffette e ancora cervi. A Richard piace questo, appostarsi, cacciare e poi uccidere è proprio ciò che preferisce. Durante una di queste uscite nei boschi l'uomo un giorno si imbatte in un grosso roditore che sta nei pressi di una quercia. Pensando che si tratti di una marmotta Richard decide di prenderla alla sprovvista. Muovendosi furtivamente si porta a una distanza giusta per uccidere l'animale al primo colpo. Richard quindi punta, colpisce il bersaglio ma l'animale rimane ancora in vita. Avvicinandosi Richard si rende conto che quello è un grosso topo selvatico e non una marmotta. Richard quindi decide di uccidere il topo e allontanandosi nota, nascosta da un cespuglio, l'ingresso di una grotta coperta di muschio. Incuriosito decide di entrare nella grotta dove sente immediatamente odore di ratti selvatici. Ma delle creature non c'è neanche l'ombra. Richard quindi esce dalla grotta e tornando alla sua macchia pensa già ad un pieno da mettere in pratica di lì a poco. Richard infatti torna pochi giorni dopo alla grotta portando con sé un cartoccio pieno di mangime. Si fa avanti per una quindicina di metri lasciando il cibo in mezzo alla grotta per poi tornare a casa. L'indomani torna nuovamente alla grotta e si rende conto che tutto il mangime lasciato il giorno prima è sparito. Richard sa che i roditori si adattano a mangiare praticamente qualsiasi cosa e si chiede se per caso avrebbero gradito un altro tipo di cibo, tipo della carne umana. Ebbene si scopre ben presto che i roditori amano particolarmente la carne umana così questi piccoli animaletti diventano degli ottimi involontari alleati nei diritti di Richard. Per Richard ben presto si materializza un contratto per un delitto su commissione con una richiesta specifica. La vittima deve soffrire. In palio per Richard c'è un compenso alquanto importante. Se Richard avesse fatto soffrire la vittima il compenso per lui sarebbe raddoppiato. Non avrebbe preso come suo solito 10.000 dollari bensì 20.000 dollari. La vittima di Richard vive a Nutley nel New Jersey. Richard non sa nient'altro sul conto della vittima e gli va bene così. Sa solo che avrebbe dovuto farlo soffrire parecchio, niente di più. Quella per Richard è la situazione che più preferisce. Meno sa a proposito del bersaglio, meglio è. Richard approfitta del fatto che produce video intimi da distribuire un po' ovunque e per commettere questo crimine usa la sua videocamera per riprendere il tutto. Colui che ha sostenuto Richard introducendolo nel mondo dei video intimi è il noto Roy DeMeo, un uomo totalmente folle e senza controllo. Soldato agli ordini della famiglia Gambino, la più estese e potente famiglia criminale mafiosa di New York. Roy DeMeo si occupa di tutto, dalle auto rubate al traffico di sostanze, ai delitti su commissione. Il suo superiore diretto, ossia il suo capo, è Nino Gaggi che riferisce direttamente a Paul Castellano, riconosciuto come capo della famiglia Gambino in quegli anni. Roy accetta in modo indifferente incarichi per eliminare boss caduti in disgrazio persone normali che però è meglio tolgano il disturbo. Roy è un vero e proprio chirurgo quando deve colpire qualcuno. È abilissimo nel fare a pezzi i corpi per sbarazzarsene con maggiore facilità. Roy ridendo dice che i corpi lui li smonta. Per mettere in atto il suo piano Richard ha deposto nel bagagliaio della sua auto la sua videocamera, un robusto nastro adesivo da idraulico, e delle manette. Richard sa che la sua vittima esce tutte le mattine per andare a lavoro alle 10 in punto. L'ha seguito più volte per studiare attentamente il suo percorso. Così Richard decide che l'avrebbe fermato nei pressi di un incrocio poco trafficato. La sua vittima sarebbe stata obbligata a fermarsi per via di uno stop. C'è da dire che all'uomo non piace affatto entrare in azione alla luce del giorno. Preferisce la notte, però quando c'è del lavoro da compiere non sta tanto a sottilizzare. E inoltre sa bene come adattarsi. Sa che con la luce del sole la gente sta meno sulla difensiva. Un comportamento naturale sul quale ha puntato davvero molte volte. Quando la vittima predestinata arriva al punto cruciale, Richard si fa trovare accanto alla sua auto con il bagagliaio aperto. Ha le luci di emergenza accese e un bel sorriso accattivante stampato sulle labbra. E poi ha anche una magnum nascosta nel giaccone. Richard con ampi gesti attira l'attenzione della vittima, che accosta quindi la macchina all'angolo della strada. La vittima è un po' infastidita dall'inconveniente. Quindi si avvicina alla macchina di Richard, tira giù il finestrino e gli chiede quale sia il problema. Richard lo ringrazia per essersi fermato, dopodiché estrae la pistola, gliela punta alla testa e con altrettanta rapidità gli svila le chiavi dal cruscotto. Richard senza dire una parola apre la portiera alla vittima. Lo intima di seguirlo, prendendolo di sorpresa. Dopodiché lo lega e lo chiude nel bagagliaio della sua auto. Richard quindi guida con tranquillità a questo punto, rispetta stop e semafori. In una manciata di secondi è riuscito a catturare e a zittire la sua preda. Insomma, la prima parte del lavoro si è svolta perfettamente. Richard porta la sua vittima all'entrata della grotta nei boschi di Bucks Country e la obbliga ad entrare fino al luogo dove precedentemente ha lasciato del mangime per topi. Con svariati giri di corda, nastro isolante e manette lo immobilizza, bloccandogli le mani, le caviglie e la bocca. La vittima cerca disperatamente di dire qualcosa, ma con il nastro alla bocca è impossibile capire cosa stia dicendo. Peraltro le parole disperate delle sue vittime, Richard, le conosce fin troppo bene. Sono tutte parole vane, suppliche, proposte in denaro in cambio della libertà. Tutte parole che lasciano Richard totalmente indifferente. Non prova rimorso, né senso di colpa, né tantomeno compassione. Sta semplicemente svolgendo il suo lavoro e lo fa con una freddezza assurda. Richard quindi torna alla macchina, recupera la sua videocamera, un trepide su cui montarla, una torcia e un sensore di movimento, il quale permette alla videocamera di iniziare a riprendere la scena solo quando i topi si sarebbero fatti vivi. Una volta sistemato il tutto, Richard torna a casa ed è anche divertito e un po' incuriosito, pensando a quello che sarebbe accaduto. I ratti avrebbero mangiato vivo il povero malcapitato oppure no? In quell'occasione Richard si meraviglia di se stesso e del suo implacabile e terribile sangue freddo. È nato così oppure lo è diventato con il tempo? Non sa se è stata la natura oppure la vita a far di lui quel mostro che è diventato con il tempo. Richard torna alla grotta ben quattro giorni dopo e scopre che in effetti i topi hanno divorato tutto. Ogni traccia di carne umana è sparita, quello che resta della vittima sono solo le ossa. Quello per chiunque sarebbe uno spettacolo raccapricciante e spaventoso, ma non per Richard. Infatti Richard è incuriosito e stuzzicato dalle sue gesta e anche compiaciuto del lavoro svolto e di ciò che ha architettato per far soffrire questo uomo. Richard si è di conseguenza premurato di verificare se la videocamera ha funzionato e in effetti è possibile vedere orde di ratti liberarsi come famiglici assassini, via via sempre più numerosi e intraprendenti, che incominciano ad attaccare la povera vittima inerme, divorando prima i suoi occhi e poi le sue orecchie. Richard soddisfatto del lavoro ritira in tutta fretta l'equipaggiamento e si allontana. Quel giorno peraltro nevica e per Richard questo è un grande aiuto. La neve infatti avrebbe nascosto le sue tracce e le sue impronte. Richard quindi consegna il nastro con la registrazione al committente e in breve tempo, visionandolo, quest'ultimo si rende conto di non riuscire a guardare. Da quanto raccapricciante sia quello spettacolo. E ha ragione. Quello è uno spettacolo raccapricciante e Richard da questo momento sfrutta questo modus operandi infinite volte. È incredibilmente comodo avere dei ratti che mangiano le sue vittime, facendole di conseguenza sparire completamente. Per Richard Kuklinski il denaro conta parecchio. Se ne hai sei un uomo di successo, se non ne hai sei una nullità qualunque, che si vede sfilare impotente il bello della vita davanti agli occhi. Richard però ha un altro problema alquanto importante. Ha le mani bucate. Più soldi possiede, più gli sperpera col gioco d'azzardo. Dopo aver fatto diversi lavori su commissione, tra cui l'eliminazione di Paul Rothenberg, un socio in affari con il quale hai in mano l'intera distribuzione di videocassette intime, in praticamente tutta New York. Richard quindi si avvicina sempre di più a Roy DeMeo. Ma, cosa ancora più importante, Roy gli dà la possibilità di accedere a Nino Gaggi, colui che comunica direttamente con Paul Castellano, il capo della famiglia Gambino. Infatti un giorno Roy DeMeo invita Richard a pranzo in un ristorante italiano di nome La Villa, nella zona di Benshurst, un quartiere di New York situato nella parte sud-occidentale del borgo di Brooklyn. Il locale si trova verso la 26esima Avenue e si presenta come un vecchio edificio con delle colonne sulla facciata. Nel ristorante La Villa servono piatti di cucina napoletana, la preferita da Nino Gaggi. E in effetti in quel posto sanno perfettamente chi sia Nino Gaggi. Lo accolgono come se si tratti di un nobile principe italiano. Infatti, appena arriva, in un attimo, tutto il meglio dei cibi e dei vini è a sua totale disposizione e lo staff dei camerieri è sull'attenti. Nino Gaggi è soddisfatto del lavoro di Richard, quindi gli assicura che gli avrebbe fatto guadagnare dei bei soldoni. Roy DeMeo si comporta come il mentore di Richard, come se quell'uomo spietato sia una specie di segreto, un'implacabile macchina di morte capace di onorare qualsiasi impegno, per quanto pericoloso sia. Grazie a Roy, quindi, Richard sarebbe potuto diventare un membro dell'armata dei sicari che fa capo al clan Gambino. A distanza di cinque giorni dal pranzo, Roy DeMeo ricontatta Richard per invitarlo nei pressi del Tappanzi Bridge, un ponte a sbalzo, oggi non più esistente, che attraversa sfiume Hudson, situato a New York. Quello diventa un classico punto di ritrovo tra i due e in quell'occasione Roy propone a Richard un altro lavoro, un qualcosa di nuovo e speciale. Infatti, a Miami, un cubano, ha rapito e fatto violenza sulla figlia quattrodicenne di un affiliato di Roy. L'uomo non è stato riconosciuto perché si è coperto il volto con una bandana, ma Roy è sicuro che sia una persona ben precisa. Dopo avergli spiegato come trovarlo, Roy dice a Richard che deve assolutamente farlo soffrire tantissimo. Richard accetta, saluta Roy con una stretta di mano e parte per Miami con 20.000 dollari in più nel portafoglio. Richard si mette immediatamente in viaggio, senza fermarsi mai lungo il tragitto né per riposare né per mangiare. Ogni volta che si ferma a fare benzina paga in contanti. Ovviamente possiede anche una carta di credito Richard, ma non vuole lasciare nessuna traccia del suo spostamento. Richard non ha neanche la fotografia del bersaglio, ma Roy DeMeo gli ha precisato quale sia la sua automobile, che tiene posteggiata in un parcheggio destinato agli impiegati di un hotel, oltre ad avergli fornito ovviamente il numero di targa della macchina. Le persone che Richard odia di più sono proprio quelle persone che fanno violenza e quindi, mentre guida, immagina che reazione avrebbe avuto se qualcuno avesse commesso un'azione del genere nei confronti delle sue figlie. L'uomo si risponde immediatamente. La rabbia e l'odio sarebbero sicuramente sfociate in un delitto. Se Richard è del tutto indifferente al cospetto della sofferenza di un uomo, nei confronti delle donne invece è totalmente diverso. È empatico e solidale nei confronti delle giovani donne che subiscono quel genere di violenze. È un lavoro che si presta a fare volentieri, al punto che, se glielo avessero chiesto, l'avrebbe svolto senza compenso, gratuitamente. Come sua abitudine, Richard non si mette in azione spinto dalla voglia di fare, ma pondera al meglio le sue possibilità. Si è portato dietro una calibro 38 caricata a proiettili a palla appuntiti e un coltello da caccia con la lama leggermente incurvata. E su quello che si è portato dietro sono già presenti quattro tacche. In effetti Richard, per quel lavoro, ha pensato proprio di usare il coltello, in quanto colpire con la lama gli piace in modo particolare, essendo un gesto molto diretto e personale, che lo costringe ad essere molto vicino, in intimo contatto con la vittima. A Richard piace vedere la vita che abbandona gli occhi delle sue vittime e prova una soddisfazione ancora maggiore, se si tratta di un uomo che fa violenza su altre ragazze, esattamente come in quel caso. Insomma, Richard è sicuro che per quel lavoro si sarebbe divertito un mondo. La vittima risiede in un complesso residenziale a tre piani lungo la Collins Avenue, accanto alla sessantesima che si affaccia sia sull'oceano che sulla Grande Arteria. Richard prende una stanza in un hotel lì vicino, pranza e cerca la targa che gli ha segnalato Roy DeMeo, senza trovarla. Richard capisce ben presto che nell'hotel in cui lavora il suo obiettivo ci sono due turni, dalle 8 del mattino alle 4 del pomeriggio e dalle 4 del pomeriggio a mezzanotte. Siamo nell'inverno del 1974 ed il parcheggio è pieno di auto. Richard di conseguenza deve stare molto attento a non farsi notare dal bersaglio, che se ne è andato per poi tornare intorno alle 15.30. Il cubano quindi arriva, posteggia la sua macchina e scende dal mezzo fischiettando, mentre Richard controlla la targa. La targa corrisponde, quindi una volta inquadrato il soggetto, Richard in poco tempo realizza come portare a buon fine il lavoro. Di conseguenza si allontana di nuovo. A questo punto non è che una questione di tempo. Arrivano le 23.30 e quella stessa notte, Richard è di nuovo in macchina nel parcheggio del complesso residenziale. Richard quindi parcheggia il suo van nel posto libero più vicino alla macchina della sua vittima. Scende poi dalla sua auto, va a squarciare la gomma dell'auto della vittima per poi rientrare nella sua macchina. Giunge a mezzanotte e il bersaglio effettivamente arriva per recuperare la sua macchina. In poco tempo si accorge della gomma bucata e quindi inizia a imprecare mentre apre il cofano per prendere la ruota di scorta. Richard è già alle sue spalle. Gli punta una pistola alla schiena e lo obbliga a seguirlo. Lo trascina nel suo van, lo spinge all'interno, stringendogli le mani dietro la schiena e infilandogli uno straccio in bocca sul quale ha applicato un pezzo di nastro isolante grigio e con tutta calma fa manovra per allontanarsi dal parcheggio. Il tutto è durato non più di un paio di minuti. Richard guida e si rivolge all'uomo che ha appena rapito, spiegandogli il motivo per cui ha dovuto compiere quel gesto. Insiste dicendogli che prima di farlo fuori avrebbe dovuto farlo soffrire tantissimo, in quanto l'hanno pagato proprio per quel motivo. La vittima è impossibilitata a parlare, quindi emette solo dei versi e dei grugniti. Richard a questo punto lo minaccia, gli dice di fare silenzio e la vittima a questo punto si zittisce. Capisce che non può fare davvero granché in quella condizione. Mentre la macchina imbocca una stradina sterrata che lo conduce nel cuore di quella isolata e selvaggia distesa di palme verso la spiaggia. Richard si mette dei guanti di plastica, fa scendere la vittima dalla sua auto e la conduce verso una palma contro cui la lega con una robusta corda gialla di nylon. La vittima a quel punto è nel panico più totale e quando Richard estrae il suo coltello si spaventa ancora di più. Ebbene, Richard gli fa togliere i pantaloni e le mutande per poi staccargli di netto le parti con il coltello. Dopodiché Richard mette quelle parti amputate in un sacchettino in modo tale da avere delle prove da esibire al commettente e dimostrargli che realmente la vittima ha sofferto. Dopo aver fatto ciò, Richard torna dalla vittima. Lo denuda completamente e inizia a tagliargli pezzi di carne del corpo a fettine. Dopo averlo ferito praticamente ovunque Richard torna al van e recupera del sale col quale cosparge le ferite del povero malcapitato. Richard quindi lascia che il sale faccia il suo effetto sulle ferite della sua vittima, dopodiché gli squarcia la pancia, lo libera dalla palma, gli infila un salvagente e lo trascina fin sulla spiaggia al limite dell'acqua. Richard a questo punto spiega che i pescecani non ci avrebbero messo più di un secondo a trovarlo sentendo l'odore del suo sangue e in effetti in quella zona di pescecani se ne avvistano tanti. Con queste ultime parole Richard trascina l'uomo nell'acqua affidandolo al mare, poi torna a suo van, raccoglie i pezzi di carne staccati dal corpo dell'uomo e li getta in mare. Finito questo lavoro contento e rilassato più che mai, Richard se ne torna in hotel per mangiare qualcosa e riposarsi un po' prima di ripartire. Il giorno dopo rincasando mentre attraversa la North Carolina affianca una macchina con a bordo tre tipi che lo prendono immediatamente di mira. Gli gridano insulti, gli mostrano un dito medio, Richard gli manda a quel paese intimandogli di cambiare aria, ma quelli sono duri di comprendogno e lo smettono proprio. Continuano a fargli gestacci, lo provocano, lo guardano con molti trucci, pare abbiano davvero l'intenzione di fargli del male. Peccato che abbiano preso di mira l'uomo sbagliato. Infatti dopo averli superati, Richard si ferma in una piazzola lungo l'autostrada e li aspetta. Appena lo vedono, i tre tipi si fermano immediatamente. Nel frattempo però Richard si è già preparato. Infatti ha già tirato fuori la pistola che solitamente tiene sotto il sedile di guida. I tre ragazzi scendono dall'auto, uno di loro stringe in mano una mazza, ma Richard sicuro va verso di loro e senza dire una parola, estrae la pistola e li fredda tutti e tre a bruciapelo, lasciandoli lì, sull'asfalto. La polizia in tutto ciò è convinta che Richard abbia freddato un centinaio di persone, forse di più. Per la maggior parte, uomini comuni, viene arrestato grazie ad un infiltrato, ossia Dominic Polyphon, nei pressi della sua abitazione il 17 dicembre del 1987. Questo avviene dopo numerosi anni che le autorità tentano di incastrarlo senza però riuscirci. L'arresto infatti diventa possibile grazie a delle registrazioni telefoniche in cui Richard, forse ormai convinto di essere invincibile, confessa spudoratamente i diversi usi che fa del veleno, di come lo utilizza per freddare qualcuno e di quanto sia praticamente invisibile, creando molto similmente un attacco di cuore e stroncando il malcapitato di turno in una maniera alquanto veloce. Inoltre, Dominic Polyphon si è messo in contatto con Richard chiedendogli di acquistare delle armi rubate, traendolo così in inganno. Richard viene condannato a sei ergastoli, ma non ha la pena di morte a causa della mancanza totale di testimoni durante i suoi delitti. Viene rinchiuso nella prigione di massima sicurezza di Trenton, nel New Jersey, dove da diversi anni si trova anche suo fratello sia Joseph Kuklinski, arrestato anni prima per aver fatto violenza su una ragazzina in un granaio. Richard, dopo questo fatto, si è totalmente scordato di lui, in quanto nel suo personale codice morale la violenza sui minori costituisce un reato inaccettabile. In prigione Richard ha confessato molti dei suoi crimini e ha dichiarato queste parole. A essere sincero, non è che uccidere mi gratifichi molto. Quello che mi piace è ciò che avviene prima. L'agguato, il progetto del crimine, la caccia vera e propria. Inoltre, Richard spiega la sua fissa nel fare segni sui coltelli per ogni vittima in questo modo. Richard dice Non ricordo bene quando mi è venuta questa mania. So solo che ad un certo punto ho cominciato a segnare con delle tacche sul manico dei coltelli ogni crimine portato a buon fine. Un po' come facevano, e forse fanno ancora, i pistoleri. Nel corso degli anni ho usato dozzine di pugnali per colpire. Il manico di alcuni è arrivato a riportare 10 o 15 tacche e a quel punto me ne liberavo. Li gettavo via. Richard Kuklinski muore nella prigione di Trenton il 5 marzo del 2006 per complicazioni cardiache. Detto questo ragazzi, sul caso di Richard Kuklinski, a quanto ne so, hanno fatto anche un film che si intitola dei Iceman, che però io non ho mai visto, quindi se qualcuno di voi per caso l'ha visto può farmi sapere qua sotto se gli è piaciuto, non gli è piaciuto, perché gli è piaciuto, e tutte queste cose qua. In caso, lo vedrò molto volentieri. Detto questo, la storia di questo serial assassino è alquanto particolare, come avrete notato, insomma. Specialmente il suo codice morale è un pochino particolare, perché, insomma, va bene essere contro le violenze, però tagliare a fettine le tue vittime per poi farle mangiare dei pesce cani non credo che sia qualcosa di tanto umano. La cosa che, a mio parere, è sicura è che questo uomo non è diventato così perché ci è nato. È diventato così per l'infanzia difficile che ha passato, e per carità, moltissime persone vivono un'infanzia difficilissima e non per forza arrivano a fare le atrocità che ha commesso Richard Kuklinski o qualsiasi altro serial assassino. Certo, però, c'è un fatto, non siamo tutti uguali. Pensateci, Richard ha visto suo padre far fuori suo fratello con le sue mani. Sua madre non gli ha mai dimostrato affetto. Richard non ha mai conosciuto l'affetto. E questo si rivela anche, in effetti, nella sua relazione. Perché anche con sua moglie non si comporta in modo così tanto dolce e affettuoso. Anzi, tutt'altro. Ha spesso scatti d'ira. Le punta una pistola alla testa. Finge di soffocarla nella notte. Le scelte che ha fatto sono assolutamente sbagliate per quanto mi riguarda. La vita di questo uomo è stata sicuramente particolare. E, a mio parere, l'infanzia che ha avuto lo ha portato effettivamente ad essere un uomo di ghiaccio. Un uomo senza sentimenti. Perché questo è Richard Kuklinski. Un uomo senza sentimenti. Ma, fatemi sapere anche voi cosa ne pensate di questo assassino serial. Conoscevate già la storia di Richard Kuklinski? Fatemi sapere quello che volete qui sotto nei commenti. Detto questo, ragazzi, ho finito di sproloquiare in questo video. Vi mando un bacione. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi e continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.